salve quale onore e piacere per chi non mi conoscesse io sono donna concetta concetta crisi giusto appunto ora stavo chiudendo la porta del mio palazzo quando di fronte l'orto botanico è un palazzo tutto di marmo di dentro e di fora ma dentro un mobilio tutto di lusso e le stanze col perché perché di legno una cosa veramente splendida ho un figlio Adolfo che è una gioia e ho un marito ho un marito punto mio figlio che ragazzo è ragioniere laureato conosce tre lingue e scrive come un angelo può stare in sfida con un professore di università qualsiasi e poi è bello elegante un signore è proprio un amore a casa nostra non manca niente sapete cibi di prima qualità caffè cioccolato capretti identici cassate non manca proprio niente noi non badiamo a spese ah mi doveste scusare ora devo andare da quella di donna placida perché avessi un discorso da fare a presto NELLO 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 NELLO